Sarà una stagione particolare, dopo tanti mesi di stop dobbiamo ripartire con un spirito positivo e propositivo perché quello che vogliamo è ritornare a giocare a palacanestro, ritornare a fare questo magico sport che è quello che tanto ci piace fare. Tanti mesi fermi ma adesso abbiamo veramente tanta voglia di tornare al palazzetto e poi prima possibile tornare a gioire insieme anche ai tifosi dentro a tutti i partiti d'Italia. Il desiderio di vittoria in uno sportivo è una cosa che non si placa mai quindi noi cercheremo come sempre di vincere tutte le partite, vincere più partiti possibili e negli ultimi anni sicuramente la Reier ha fatto scuola, c'è un progetto che continua ha dato continuità ancora rispetto all'anno scorso e di questo possiamo che esserne felici e proprio per questo non vediamo l'ora di riprendere e sperare di portare a casa anche quest'anno più vittorie possibili. Dal punto di vista sicuramente fisico ci sarà un grosso dispegno di energie perché dopo tanti mesi di stop dovremo un po' alla volta tutti quanti riprendere ci vorrà un po' di pazienza da parte di tutti, da parte nostra, da parte dello staff perché non sarà così immediata la cosa. Poi anche dal punto di vista mentale non sarà facile dopo tanti mesi comunque a casa riniziare la nostra routine di vita che è una routine un po' particolare dove siamo sempre in giro, sempre via. Allora la chiave come ho detto prima, lo ripeto, è la pazienza. Quest'anno sarà un'annata di pazienza che chi ne avrà di più poi alla fine arriverà al momento pronto più coeso. Noi abbiamo sempre dimostrato di essere un gruppo coeso è un gruppo con una chimica particolare, una chimica e un'alchimia di squadra che nei momenti importanti siamo sempre riusciti a trovare quel qualcosina in più che ci ha dato motivazione e forza in più per portare a casa l'obiettivo. Quindi sicuramente quest'anno ci vorrà un po' più di pazienza ma poi le cose un po' alla volta arriveranno proprio perché siamo un gruppo vero un gruppo che si ritrova dopo già due o tre stagioni insieme. Credo che all'interno di una squadra siano importanti le gerarchie e le alchimie. Io un po' alla volta negli anni mi sono costruito sempre di più il mio ruolo e insomma ci sono stati fatti un grande lavoro ho fatto un grande lavoro con la società, con il mio staff e con i miei compagni. Io cerco sempre del mio DNA di dare il 100% quando scendo in campo e penso che i miei compagni me lo riconoscano. Nell'ultimo periodo poi siamo riusciti a fare molto 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 bene ed è da lì che vogliamo ripartire e anche io è da lì che voglio ripartire per continuare a crescere ancora.